Ribadisco il nostro no alla Superlega, così il presidente della FIGC Gabriele Gravina commenta il progetto annunciato ieri da parte dei 12 club che vogliono dar vita a un nuovo torneo internazionale, il luogo delle attuali competizioni continentali. L'unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta UEFA sulla Champions League. Ogni tentativo di fuga in avanti è ricevibile e dannoso per il calcio europeo, ha commentato Gravina sul Monese di adozione. L'adesione a questo progetto pone gli stessi club al di fuori del contesto riconosciuto dalla FIFA. Il numero uno della FIGC ribadisce anche l'importanza dei campionati nazionali. Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioni rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi torneo internazionale. Vogliamo difendere merito sportivo e la possibilità per ogni squadra di inseguire un grande sogno insieme ai propri sostenitori. Il calcio è dei difusi, va modernizzato ma non snaturato il calcio e partecipazione e condivisione non è un club elitario.